capitolo ventottesimo Pinocchio corre pericolo di essere fritto in padella come un pesce durante quella corsa disperata vi fu un momento terribile un momento in cui Pinocchio si crede perduto perché bisogna sapere che Alidoro era questo il nome del cammastino a furia di correre e correre l'aveva quasi raggiunto basti dire che il burattino sentiva dietro di sé alla distanza di un palmo l'ansare affannoso di quella bestiaccia e ne sentiva perfino la vampa calda delle fiatate per buona fortuna la spiaggia era oramai vicina e il mare si vedeva lì a pochi passi appena fu sulla spiaggia il burattino spiccò un bellissimo salto come avrebbe potuto fare un ranocchio e andò a cascare in mezzo all'acqua Alidoro invece voleva fermarsi ma trasportato dall'impeto della corsa entrò nell'acqua anche lui e quel disgraziato non sapeva nuotare per cui cominciò subito ad annaspare con le zampe per reggersi a galla ma più annaspava e più andava col capo sott'acqua quando tornò a rimettere il capo fuori il povero cane aveva gli occhi impauriti e stralunati e abbaiando gridava affogo! affogo! crepa! gli rispose Pinocchio da lontano il quale si vedeva oramai sicuro da ogni pericolo aiutami Pinocchio mio! salvami dalla morte! a quelle grida strazianti il burattino che in fondo aveva un cuore eccellente si mosse a compassione e voltosi al cane gli disse ma se io ti aiuto a salvarti mi prometti di non darmi più noia e di non corrermi dietro? te lo prometto! te lo prometto! spicciati per carità perché se indugi un altro mezzo minuto sono bello e morto! Pinocchio esitò un poco ma poi ricordandosi che il suo babbo gli aveva detto tante volte che a fare una buona azione non ci si scapita mai andò nuotando a raggiungere Alidoro e presolo per la coda con tutte e due le mani lo portò sano e salvo sull'arena asciutta del Lido il povero cane non si reggeva più in piedi aveva bevuto senza volerlo tant'acqua salata che era gonfiato come un pallone peraltro il burattino non volendo fare affidarsi troppo stimò cosa prudente di gettarsi nuovamente in mare e allontanandosi dalla spiaggia gridò all'amico salvato addio Alidoro fai buon viaggio e tanti saluti a casa addio Pinocchio rispose il cane mille grazie di avermi liberato dalla morte tu mi hai fatto un gran servizio e in questo mondo quel che hai fatto è reso se capita l'occasione ci riparleremo Pinocchio seguitò a nuotare tenendosi sempre vicino alla terra finalmente gli parve di essere giunto in un luogo sicuro e dando un'occhiata alla spiaggia vide sugli scogli una specie di grotta dalla quale usciva un lunghissimo pennacchio di fumo in quella grotta disse allora fra sé ci deve essere del fuoco tanto meglio andrò a rasciugarmi e a riscaldarmi e poi e poi sarà quel che sarà presa questa risoluzione si avvicinò alla scogliera ma quando fu lì per arrampicarsi sentì qualche cosa sotto l'acqua che saliva 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 e lo portava per aria tentò subito di fuggire ma oramai era tardi perché con sua grandissima maraviglia si trovò rinchiuso dentro una grossa rete in mezzo a un brulichio di pesci d'ogni forma e grandezza che scodinzolando si dibattevano come tant'anime disperate e nel tempo stesso vide uscire dalla grotta un pescatore così brutto ma tanto brutto che pareva un mostro marino invece di capelli aveva sulla testa un cespuglio foltissimo di erba verde verde era la pelle del suo corpo verdi gli occhi verde la barba lunghissima che gli scendeva fin qua giù pareva un grosso ramarro ritto sui piedi di dietro quando il pescatore ebbe tirata fuori la rete dal mare gridò tutto contento provvidenza benedetta anche oggi potrò fare una bella scorpacciata di pesce manco male che io non sono un pesce disse Pinocchio dentro di sé ripigliando un po' di coraggio la rete piena di pesci fu portata dentro la grotta una grotta buia e affumicata in mezzo alla quale friggeva una gran padella d'olio che mandava un odorino di moccolaia ad ammozzare il respiro ora vediamo un po' che pesci abbiamo presi disse il pescatore verde e ficcando nella rete una manona così spropositata che pareva una pala da fornai tirò fuori una manciata di triglie buone queste triglie disse guardandole e annusandole con compiacenza e dopo averle annusate le scaraventò in una conca senza acqua poi ripete più volte la solita operazione e via via che cavava fuori gli altri pesci sentiva venirsi l'acquolina in bocca e gongolando diceva buoni questi naselli squisiti questi muggini deliziose queste sogliole prelibati questi ragnotti carine queste acciughe col capo come potete immaginarvelo i naselli i muggini le sogliole i ragnotti e le acciughe andarono tutti alla rinfusa nella conca a tener compagnia alle triglie l'ultimo che restò nella rete fu Pinocchio appena il pescatore l'ebbe cavato fuori sgranò dalla maraviglia i suoi occhioni verdi gridando quasi impaurito che razza di pesce è questo dei pesci fatti a questo modo non mi ricordo di averne mai mangiati e tornò a guardarlo attentamente e dopo averlo guardato ben bene per ogni verso finì col dire ho già capito deve essere un granchio di mare allora Pinocchio mortificato di sentirsi scambiare per un granchio disse con accento risentito ma che granchio non granchio guardi come lei mi tratta io per sua regola sono un burattino un burattino replicò il pescatore dico la verità il pesce burattino è per me un pesce nuovo meglio così ti mangerò più volentieri mangiarmi ma la vuol capire che io non sono un pesce o non sente che parlo e ragiono come lei è verissimo soggiunse il pescatore e siccome vedo che sei un pesce che hai la fortuna di parlare e di ragionare come me così voglio usarti anch'io i dovuti riguardi e questi riguardi sarebbero in segno di amicizia e di stima particolare lascerò a te la scelta del come vuoi essere cucinato desideri essere fritto in padella oppure preferisci di essere cotto nel tegame con la salsa di pomidoro a dir la verità rispose Pinocchio se io debbo scegliere preferisco piuttosto di essere lasciato libero per potermene tornare a casa mia tu scherzi ti pare che io voglia perdere l'occasione di assaggiare un pesce così raro non capita mica tutti i giorni un pesce burattino in questi mari lascia fare a me ti friggerò in padella assieme a tutti gli altri pesci e te ne troverai contento l'essere fritto in compagnia è sempre una consolazione l'infelice Pinocchio a questa antifona cominciò a piangere a strillare a raccomandarsi e piangendo diceva quant'era meglio che fossi andato a scuola ho voluto dar retta ai compagni e ora la pago iiii iiii e perché si divincolava come un'anguilla e faceva sforzi incredibili per risgusciare dalle grinfie del pescatore verde questi prese una bella buccia di giunco e dopo averlo legato per le mani e per i piedi come un salame lo gettò in fondo alla conca con gli altri poi tirato fuori un vassoiaccio di legno pieno di farina si dette a infarinare tutti quei pesci e man mano che li aveva infarinati li buttava a friggere dentro la padella i primi a ballare nell'olio bollente furono i poveri naselli poi toccò ai ragnotti poi ai muggini poi alle sogliole e alle acciughe e poi venne la volta di Pinocchio il quale a vedersi così vicino alla morte e che brutta morte fu preso da tanto tremito e da tanto spavento che non aveva più né voce né fiato per raccomandarsi il povero figliuolo si raccomandava con gli occhi ma il pescatore verde senza badarlo neppure lo avvoltolò cinque o sei volte nella farina infarinandolo così bene dal capo ai piedi che pareva diventato un burattino di gesso poi lo prese per il capo eeeh grazie a tutti 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 grazie a tutti